Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog Oggi è martedì 18 ottobre E è sera, sono quasi 9 di sera, manca mezz'oretta alle 9 E tra 40, no, tra un'oretta e 10 minuti Arriverà a Milano Stefano Sono qui insieme a Tudor Che è qui perché domani partiamo per Amsterdam E praticamente tra, penso pochissimo Tipo un'ora massimo, un'oretta e mezzo proprio Al limite, Stefano dovrebbe raggiungere I 2 milioni di iscritti Me ne sono accorto ora, cioè, sapevo che doveva raggiungerli Ma mi sono accorto proprio ora che succederà tra poco Quindi, visto che Stefano non è a Firenze E arriverà qua a Milano per poi partire domattina Ho pensato, andiamo a prendere una bottiglia di champagne Di qualcosa, una torta così al volo Nulla di organizzato, non è venuta in mente al momento Per festeggiare Esatto, per festeggiare, che comunque è una cosa importantissima 2 milioni di iscritti Cioè, quanti raggi sono a 2 milioni di iscritti su YouTube Italia? 2, forse uno Favij, Pantellas Penso sì, di basta È il terzo In teoria, sempre se non mi sbaglio Però comunque è una cosa importantissima E quindi andiamo a prendere qualcosa per festeggiare Tudor, perché sei in ciabatte? Perché Milano è in ciabatte Lo sai che siamo a ottobre Ok, bravo E quindi? No, no, nulla Tranquillo, tranquillo Ok, siamo arrivati Io sto seguendo Tudor Che mi dà le indicazioni Mi hanno preso le fragole Per da mangiare insieme allo champagne Io l'ho già trovato allo champagne Ovviamente Là c'è del vino Ma no, cos'è? È aceto Buono Sì, buono l'aceto Ma quindi ci prendiamo anche i stuzzichini? Stuzzichini? Non lo so Stuzzichini Un carrellino Tre rustel Due cose di formaggio E le fragole Buon accostamento, no Tudor? Ottimo Perché trovo Che ignoranza, ragazzi Che ignoranza Che ignoranza Dirapata Ok, ragazzi Mi hanno preso lo champagne Mi hanno preso un bov magnum È super un'offerta, tra l'altro Non costa davvero nulla Per la marca che è A prova Ok, ragazzi Mi hanno preso anche la torta La torta è gialla, ovviamente E stavamo anche pensavano di fare un prank a Stefano Tipo, andavamo soffritti e tutto Mettavamo qualcosa tipo Di super pittante O di merdoso Però mi hanno detto Vabbè, di un milione Magari è un po' eccessivo Perché? No, vabbè Sì, stasera si festeggia Domani ad Amsterdam Magari Gli mettiamo qualcosa In qualcosa Che cosa? Boh Ok, ragazzi Abbiamo comprato tutto Considerando quello che abbiamo preso Non abbiamo neanche speso tantissimo Cioè, champagne, una torta Crustini, cose pare Sì, non abbiamo speso neanche tanto E una sera a casa Si deve preparare il tutto Prima che Stefano arrivi Che dovrebbe essere Tra una mezz'oretta In realtà Ok, ragazzi Sono le 9 Non si direi Ma sono le 9 e 10 Tra mezz'oretta Come dicevo Dovrebbe arrivare Stefano E siamo più o meno Meno 500 iscritti Quindi Definitivamente Questa sera Si arriva a 2 milioni Allora La situazione è la seguente Abbiamo messo in frigo Sia lo champagne Che Che la torta Gli stuzzittini Lo li prepareremo In qualche modo Mettiamo qualcosa Sì, sarebbe la birra Se birra con la brinda Con la brinda Con la birra Però, allora C'è questo E la torta Non ve l'ho fatto vedere la torta Vabbè, ve la faccio vedere Appena la prepariamo Cos'altro? A parte che è tutto scurissimo A parte la cucina Che è un casino Ma non è colpa mia Straordinariamente Dobbiamo preparare I stuzzichini Ma non so dove L'ha messi tutto Dove cazzo è tutto? Vabbè, comunque Questi stuzzichini Bisogna mettere un po' A posto la casa Ma sapete che vi dico Tanto sta casa È sempre una merda Ragazzi Ovviamente Mi sono scordato Il pezzo più importante Del puzzle Che è il libro Perché oggi Cioè Oltre al fatto che Stefano Raggiungerà i 2 milioni di iscritti È un giorno importante Per tutti i mates Perché Ci hanno fatto una chiamata Da Da Mondadori Che è la casa Che ci ha permesso di fare il libro E ci hanno detto che È il primo libro di youtuber Al essere terzo Nella classifica generale Di tutti i libri venduti E quindi è una cosa importante E quindi Mi festeggiamo anche per quello Ragazzi Stefano mi ha appena scritto Sur Che stai facendo Io ho detto che sto editando Ma Già il fatto che mi abbia chiesto Cosa sto facendo Mi preoccupa un pochino Voglio dire Che cacchio vuoi Tra l'altro Vi faccio vedere Come l'anni la situazione Allora Abbiamo preparato il tavolo Partiamo dalla cosa Un po' Più scombussolata Tutor Ma perché Allora abbiamo messo il libro qui Le forchette nella tazza di Heisenberg Perché era l'unico modo per farlo I snack A croce Perché fa figo Il cartello che ho rubato Dal set di social face 2 Perché fa figo Da sotto c'è il cuscino dei Mates Tra l'altro Sono i bicchieri Purtroppo Sono solo quelli in plastica dura Però ce li faremo bastare I piatti per la torta E il coltello per la torta Che dovrebbe andare bene Ok Piccolo update Integno Sì l'aereo Il treno dovrebbe essere arrivato Tra pochi minuti Dovrebbe arrivare Stefano a casa Cioè tra dieci minuti Un quarto ora dovrebbe arrivare Dovrebbe arrivare invece tra poco Giuseppe Sasha e Sabrina invece Arriveranno un po' in ritardo Purtroppo Perché avevano tutti gli impegni E io giustamente Ho fatto sta cosa All'ultimo minuto Quindi Non è colpa mia Allora Stefano mi ha appena Dato un messaggio vocale Se ce la fai Mi registri il live Subscriber count Sul social blade Lo metti lì Un attimino Vorrebbe mancare poi A due milioni Io lo butto nel vlog Nel prossimo vlog Grazie E io puntualmente Gli risponderò Ah cazzo Sei quasi a due milioni No che figata Non lo sapevo Vabbè C'è arrivo oggi No sì Ha detto che arrivo oggi Ora te lo metto Ora te lo metto È arrivato papà Ti piace Come abbiamo organizzato Ho capito Perché ho organizzato tutto Perché ti serviva un video Non è vero Sì è vero Ce l'avevo già il video Sì o no Ce l'avevo già il video per domani Per quando è questo video? È vero che è il domani Però ce l'avevo già L'ho spostato domenica Eh se no mi offendo Comunque hai visto? Io ho messo anche il libro Ho visto la roba della meca Sì non ho messo usciti lì così a terra Cos'è il lombardo Eh perché prima ha registrato il videotudor Quello è per la torta Mi ho preso lo champagne Perché ci sono un pacco di wrinkles Qui dietro così No per leggere il libro Se no caldo Si apre Perché mi blocca la porta E se è colpa di tutto Sì Buonasera Ciao Tanti auguri ste Avrei preso anche una torta Qualcosa Perché? Volevo anche mettere un po' di musica Ma se no i po' di vicini si lamentano Auguri ste Ma cosa avete fatto? Eh quelle sono le candeline Eh non avevamo tanto budget Quindi abbiamo preso Eh ma te stiamo nell'arrivenza E lo ho completato Eh sì No aspettate Faccio la rivelazione però Che lo facciamo in video Cosa? Secondo te Chi ha Ha deciso di fare ciò? Chi mi ha contattato Per fare ciò? Tudor Ovviamente Make drop Make drop Bella zitta Quanto è il mio padre? No mezz'ora fa Tipo un'ora fa Ho detto Cazzo ma oggi ste arriva a due milioni Ho detto Non facciamo nulla No no Aspetta aspetta Ma è in soggiorno No ancora no Arrivano tra mezz'oretta Minchia portando assolo la roba Però è disagiante Ok Ma adesso Ma adesso Comunque si viene Porta il coso Stefanino La tua volta Guarda che sta la tua volta All'essi lunga Ma cosa stai facendo? E' Antonio Di aprirlo te Questo è il regalo E' no zio Devo editare Eh mi ha dato Antonio Allora vediamo quanto manca a Stefanino Manca Cento Cento e cinquanta Più o meno Mancano centocinquanta iscritti Stefanino Dai ma c'è lì Si ha perso di scrittura Ma perché c'è ancora i cazzi sul braccio? Sì Stefano 897 898 Dai mancano quasi cento Un mancano cento Dobbiamo partire Allora Stefano Dobbiamo prepararci Perché tra poco arrivi a due milioni Quindi Come si fa ad aprire una bottiglia In una confezione di champagne? Mancano cinquanta iscritti Prepara Pusci Eh no funziona No alza e basta Ma è brutto Io sono bello Eccala Ne fa cazzata Manca Indovina qual è il regalo più grande? Ma non è il regalo più grande? Perché pensavo venisse anche Sasha in tempo Questo è il regalo più grande? No è il regalo più grande che ti lascia la confezione per ricordo E' una grande grande cosa Dimesso andrò a prenderla nel mio preferatorio di bottiglie? Sì E' la seconda No perché il coltello? Se non ti serve il coltello Eh ma lui non è il mio coscietto Eh ma lui sciabola Coltello di plastica 26 iscritti Io direi Possiamo fare la smorta 20 20 Sei in un colpo 20 20 L'asino che parla L'asino che parla 88 Lo stai registrando? Ah 88 Eh vai dirò te Ma ci pensi non passano l'88 Ma 87 89 Sicuro È bloccato raga 82 83 Vediamo se non si ferma l'88 però Zio Qua sopra c'è il C'è C'è Stai calmino Ma cosa? Non sai che Ma ti ha fatto 90 90 90 Ma 90 90 Ma sei scemo Rimettilo Guarda che ce l'ho Ha sbagliato Si stai calmino In realtà l'abbiamo aperto quindi io direi di versarlo Bisogna devi aprire qualcosa Se no Sbocciare la birra 92 92 92 5 6 6 Si 96 86 2 milioni 2 milioni 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 9 10 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 8 10 10 9 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 11 10 11 Ma vaffanculo Ok, allora una volta eravamo 4 nel branco Eh cara, sempre Questa l'hai fatta n'altra Quindi poi dobbiamo uccidere i faggj a bere le più scritte Ma cosa? No, scherzi Ma cosa è il suo rumore? Ma no, ma la sedia, zio Vabbè, beviamo o no? Sì, vai, bevi Allo champagne Non è freschissimo, ma è buono Molto fruttato Tutto ciò domani Vai Sascha, eh sì, perché ti chiamo Sascha? Vai Stefano, Stefano, Stefano A prendere la pizza, Stefanino Non lo diciamo, eh Allora, Stefano vai, apri pure la torta Aspetta, qual è il tuo loce preferito? La zuppa inglese Ed è per questo che ti abbiamo preso La zuppa americana Profiterò Una torta mimosa Ma è buonissima È tipo quella anche del paradiso Cazzo, non è buonissima Chi la taglia? Ma non devi mangiare la torta, c'è la pizza Prima la pizza, per la torta Mamma mia, uomo stupro Se non c'è in te avete preso tre pizze Ragazzi, è passata mezzanotte Noi si deve di terra tutta la notte Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo per il visione Con lo scelto mi piace più su questo video Se non c'è il video Stefano Eh sì, c'è tutto il pre C'è tutto il pre, ovviamente Certo Ancora auguri per i 2 milioni Ciao turuturu tutti Grazie Eh no, perché questa è mia Ciao turuturu Ciao turuturu Grazie a tutti.